Mi piace pensare che a casa mia risparmiare significhi prendersi a cuore ogni giornata, sapendo che sono i piccoli gesti quotidiani che fanno la differenza. Perché mi piace pensare che siamo noi i responsabili del mondo che ci circonda, ma quello che più di tutto mi piace pensare è che l'acqua che arriva a casa mia sia un'acqua sempre pura e di qualità. Gori, gestione ottimale risorse idriche. Grazie a tutti.